Buonasera a tutti, sono Gianluca Vialli e volevo salutarvi di cuore soprattutto tutti quelli che hanno frequentato la scuola media Virgilio nel periodo in cui l'ho fatto io. Sono passati tanti anni, dobbiamo tornare al 1975 e quindi sono 40 anni, sono tanti. Io ero nella sezione H, una sezione purtroppo tutta maschile e non c'erano tutte quelle belle ragazze che c'erano invece nella sezione C, anzi eravamo un gruppo di teste abbastanza calde, però è stato divertentissimo. Io ho un bel ricordo dei tre anni che ho trascorso nella scuola media di Via Trebbia, che era dal punto di vista logistico perfetta per me, che abitavo in Via Ricototi, andavo all'oratorio al mitico Cristo Re. E quindi sono veramente grato al preside di allora, a tutti gli insegnanti e a tutti i miei compagni di classe, a tutte le persone che ho incontrato perché mi hanno aiutato a crescere, non soltanto dal punto di vista didattico, ma soprattutto dal punto di vista umano. E quindi è stato un bel periodo che ho trascorso lì e che è stato importante per la mia vita. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon divertimento, a presto!